Nel mese di agosto i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro hanno intensificato i controlli a contrasto dei traffici illeciti in materia economico-finanziaria. Le verifiche si sono concentrate prevalentemente in orario serale e notturno, dove sono state identificate oltre 1200 persone, di cui una destinataria di un provvedimento di rintraccio. Inoltre sono stati controllati 771 veicoli ed elevate 90 violazioni al codice della strada. Lungo il litorale invece sono stati controllati 16 esercizi pubblici. 8 soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Pesaro per violazione della normativa sui diritti d'autore, mentre in materia di lavoro irregolare sono stati individuati 9 lavoratori in nero. Passando ai controlli alle attività commerciali in materia di canone di abbonamento speciale RAI e di corretta emissione telematica degli scontrini e delle ricevute fiscali, sono state riscontrate rispettivamente 1 e 18 irregolarità. Sono stati sequestrati oltre 1300 prodotti non sicuri e quasi 4800 articoli contraffatti. Il rafforzamento dell'attività di servizio svolta nelle acque del Pesarese da parte del reparto operativo aeronavale di Ancona ha consentito in questo ultimo mese di effettuare 71 controlli a imbarcazioni da diporto e unità da pesca e rilevare 14 violazioni di carattere amministrativo. I finanzieri hanno poi sottoposto a sequestro oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente quali marihuana, hashish ed eroina grazie all'ausilio di unità cinofile antidroga denunciando alla Procura della Repubblica di Pesaro due persone per violazione della normativa penale in materia di stupefacenti e con la segnalazione per consumo alla prefettura di quattro soggetti.